DELIRIO! DELIRIO! Cosa fa con GR7, baby? Io per portarvi sto video non ho dormito E non ho ancora finito di editarlo Mi lasciate 2000 mi piace solo per questo Perché questa supera Roma-Juve 3 a 4 Questo supera tutto La partita più folle Gli dimmi nei commenti dove secondo voi può arrivare la Juventus in Champions League Bella Padre, figlio, spirito santo Amen Che la connessione sia con tutti noi Partita fondamentale oggi Pule io vi chiedo il pronostico ragazzi Madonna putt Che felpa clamorosa la Juve Una hit di Cristo The Champions Dusan Vlaovic Lì voglio chiamare il suo gol Forza Lì dietro Bremer capitano Già gasato normalmente così con la sua maglia e il suo muscolo Adesso anche con la fascia È letteralmente un orgasmo vivente Chiamogli pure le chiavi di Torino Anche presidente della Repubblica Openda Che subito va a spingere Bremer Questo è fallo Arbitro Calulu Si ma Ma l'ha spinto a due braccia Porca madre Bremer che si tocca preoccupantemente il ginocchio Come si tocca il ginocchio È possibile Anno da malammare Ma almeno era fallo Puttana la ma Sto cazzo di com Va bene dai Anche Nico rotto Ah Davvero Quindi vuol dire che sono in ritardo tipo di otto ore Nico lo vedo camminando Voi state già a Juve Cagliari Io sto ancora a Genoa Juve E allora tu mai no zocco Sia vai lasciata e ne leggo più Basta mi sono rotto il Ah mi sono rotto i coglioni E va bene così Il prossimo che si rompe gli è Poi ci vedo meglio senza occhiali di colma Che mi sta succedendo Sto a diventare Spider-Man Infortunio Ildiz Dai Faccio Livlaovic Non ci credo Openda Mr. Red Bull Bug Che palla Sesco Trave Gol Ci volevano Mr. Red Bull E Mr. Vodka Come è da cuore Passa la palla È fisico Ma chi cazzo Ma il dottor Richtofen Che cazzo ha fatto Quel giorno A preparare la bibita Stoccata di Belga Marco Rosa Juventus Favorita per la Champions Ergu Faci Di spoppusare Gertrude Gertrude McCennie Vlaovic No dai Si lamentano tutti Gatti Mi dice Allora Allora Lo meno prima io L'arbitro Pam In ritardo Clamoroso E la madonna Oh Ma Gianpaolo Tu ma Ma come fa Non essere rigore Ma che normale intervento Ti ha appeso il piede Se Fagioli Fino alla fine Trova al sinistro La palla resta lì McCennie Con 6 sauce Però Tentativo Personalità Fiducia Se la sentiva Come Cristiano Che provava Da tutte le parti Se ne sa Seferin Come è 14 bustine Oro solubile Cosa serve il Seferin È un integratore alimentare Per favorire Il sistema immunitario Eh per forza Perché qua la difesa È capi È sloveno Non mi dire che Eccolo lì Lo abbiamo scoperto Kevin Camp Cambi Entra Eriks Er 5212 Di FIFA Quando Vedi quel modulo Andrebbe staccata La corretta Weston Coppe Nespalo Madonna Ma che ho fatto Oh 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 Ma è Che ho fatto Cambiato il cross Goal Dusan Vlaovic Si mangia tutto Si mangia tutto Nella difficoltà Bomber d'area di rigore Perché in area di rigore Non ci sono Paragoni Dusan Vlaovic È una pesta Dentro Vlaovic Che brucia Orban Gulazzi L'impero austro-ungarico E la Slovenia Seferi E la madonna E la mafia E la Bello 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 Attenzione Pier Paura 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 Gatti Paura 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 Palo Mamma mia Meno male Meno male Mi sono otti i coglioni Di vedere i pali solo a noi Sai Valda Addio Si imbarca Si imbarca Si imbarca acqua Ragazzi Si imbarca acqua Coppe Coppe Ma come fallo in fuorigioco Come fa a essere fallo Come fa a essere fallo Ragazzi Cade da solo Sto cazzo Comodino Di Cristo Zio Di Coppe Due contro uno Madane Io non ci posso crede Ragazzi Ma che cazzo sto a vedere Varese in una rissa Secondo me Lui prende Azzotto Prima Sembra che gli sia entrato Nel corpo Spalletti Quando sei sa Il cross Vlaovic La palla L'aveva schiacciata Ma l'abito L'ha visto un fallo Ragazzi Perché voi si sarebbe Segnato Vlaovic Era fallo Calulu Di Gregorio Casino Ragazzi Senza Bremer Siamo un'altra squadra Lì dietro Tocco di mano Ah di Gregorio Spulso Questo la prendi Con la mano Perché sennò Se la deve amputare Follia ragazzi Follia 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 ragazzi Bravo Questa Questa è Real Madrid 1 Juve 3 Di 7 anni dopo Espulso di Gregorio Juve in 10 Xavi Simons Xavi Simons Strano Pensavo che la deviazione Come Ah vogliono rigore No zì Io 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 comincio a diventare Matto Ancora Controllo Perché uno si copre il volto Au ma si copre il volto Porco I tedeschi Calcio di rigolo Dai ragazzi Basta E c'è il gol Dell'Ipsia Sciopero del tifo ormai Possiamo fare silenzio Va bene Perdiamo portiere Perdiamo la faccia Perdiamo di tutto Questa non è in mano Prossimo gol Chi segna per quarto Figlio di Ceferin Nemici Della UEFA In o Sostituto Goal 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 Fagioli Anzi è Flaovic Non ci capisco più niente Tiago Tu che 2010 hai fatto di tutto Con l'Inter Adesso girano contro le cose Ci voleva il gol in fuorigioco Milito In Inter Barcellona Il gol non dato È per fallo di mano Inesistente Di Barcellona Inter E la mano di Maicon In Inter Bayern Monaco Serve Vlaovic La mette sotto l'incrocio È follia Quello che stiamo vedendo Ragazzi Sto Ma Stapartita andrà nella storia Della criminologia Del calcio Da CSI Da studiare all'università Da Palo E dai Ora Fallo Fallo su Fagioli Ale Fuori Incredibile 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 Va bene Con 6 sao La Juve è commuovente La Juve continua ad attaccare A pressare in 10 contro 11 Lo scorso in 11 contro 11 C'era Allegri che faceva segnare La Salernità Real continua a perdere La Dinamo Zagabria raddoppia Il Benfica raddoppia Il Bayern Non riesce ad andare avanti Con la Stone Villa Follia Ma che sta succedendo Eh non lo ferma nessuno Mamma mia Mamma Io Calulo Io divento matto Che Calulo merita una via di Torino Oh Douglas Douglas Agnesi Ti ha presenza Mettici un po' di cazzino Te porco Tu non mi rappresenti il DNA della Juve in questo momento Varei un altro guerriero Abbiamo 5 giocatori sotto palla McKennie Chavisimons McKennie la prende con la punta del piede Weston McKennie Weston McKennie Calulo in ripartenza È diventato Venom Il Venom è bianco nero E mette la foto profilo Potrà pazzare Con 6 sao Se rientri sul sinistro E me la benedetti Me la piazzi sul palo opposto Io veramente Si ingravito Con 6 sao RETE 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 DELIRIO DELIRIO Cosa ho fatto GR7 baby Incredibile Incredibile Non è possibile Tunnel a room È un qualcosa di incredibile Tiago Motta Dentro la braccia Questa è una guerra Non è una partita Questa è un bagno di sangue Ammonito con 6 sao Sarebbe stato bello Arbitro Manca E manca 25.000 minuti Perché di recupero darà 8 Fino a quel che posso fare Se non uscirà Ora di pranzo Calulu No 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 col piede No no Non è vero Non è vero Non è casero 9 di recupero Più di 7 Più di 8 9 minuti di recupero Grandi così Anche Andre Silva Ale Perché se no il milanista Era troppo triste Avrebbe visto Solo Calulu Diventare un idolo È tutto un film 6 minuti ancora da giocare Allarga Ellipsia Palla dentro Per in 5 giocatori McKennie Sovrastato Copp Ma è finita Ultima giocata Lusa Prova a sinistra Giro Coppa di testa Per il Finita Per il Bocca Pezzi di me Sicuramente la migliore Delle occasioni Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie.